Mi è dispiaciuto lasciare Sassuolo, però io devo pensare al mio futuro, devo pensare a giocare, visto che negli ultimi due anni ho giocato poco e questa è una piazza che mi ha voluto e spero di far bene. Io sono una mezz'ala, un esterno dove mi piace molto attaccare, però in necessità si fa tutto. Sei arrivato accompagnato dalle aspettative di elementi in mezzo al campo di qualità per elevare il tasso tecnico di questo latino, una responsabilità in più? Una responsabilità per tutti, abbiamo una responsabilità in campo, chi gioca e chi non gioca, io cercherò di dare il massimo e di usare le mie qualità per il bene di tutti. C'è gente molto più esperta di me che aiuterà a tutti, aiuterà a me compreso, io cercherò sempre di dare il mio appoggio a tutti come posso e con i mezzi che ho a disposizione. La squadra ha fatto benissimo fino adesso, bisogna solo continuare sulla striscia positiva in cui andavamo. I programmi finora sono stati di salvaguardia della categoria, ma il progetto latino è stato prospettato anche perché a livello contrattuale c'è l'ipotesi anche eventuale di essere riscattato e rimanere qui. Credo che l'obiettivo di qualsiasi sportivo è comunque giocare per vincere. Noi adesso cercheremo di raggiungere il prima possibile la salvezza, che è il primo obiettivo stagionale, poi giochiamo per i play-off e via dicendo.